E partiamo con i premi, diciamo, i premi speciali, partendo dal premio Originalità. Sì! La vince Premio Originalità, Terenzio Traisci! Terenzio Traisci! Applausi! Soprattutto l'originalità nel vestirsi. È bellissimo. Grazie Marisa! Grazie Marisa! Grazie! Terenzio! Terenzio! Finanzare! Le cose le va a fare a voi! Finanzare! Finanzare! Finanzare con il fucile!